Se siamo comunque beneficiari dalla cittadinanza, non so quanti passerebbero il test di cultura o... Quindi penso che la metà di noi non avrebbe più la cittadinanza. Sala di cultura umanistica, ma io sono laureata in matematica, chi sa. Ci passerebbe i bigliettini insomma. Sì, ci mettiamo insieme. Diciamo che vi vedo vicino alla Svizzera.